la nostra unica fede la nostra unica fede Diego Armando Maradona non c'è più non c'è più, che dire basta vedere tutto questo il resto parla da sì non ho parole, basta vedere questo il resto è solo spettacolo il resto è solo spettacolo la Napoli del calcio si riversa per strada Napoli piena caroselli di auto ma non per festeggiare scudetti o altri trofei, altre vittorie ma per piangere il più grande campione di tutti i tempi il più grande calciatore della storia l'unico, il re del calcio Diego Armando Maradona non c'è più ha dato un calcio alla vita ma è passato alla leggenda siamo qui per papà ce l'ha passato lui tu non l'hai conosciuto? l'ho conosciuto ma non l'ho visto giocare però è quello che dicevo con lui non è la stessa cosa perché lui l'ha visto quindi per lui è umano io sono nato nel mito giocavo da piccolo e dicevano ma chi si Maradona? ma vuoi fare Maradona? ma chi si Maradona? ma chi si Maradona? cioè per noi è un ideale è un concetto è uno status Maradona non è un giocatore non è un uomo anche che quello che ha fatto in campo possiamo dire che è un dio? del calcio sicuramente quello che ha fatto in campo tantissime persone hanno fatto di più e come lo facevano? dopo una guerra le Malvina si scende in campo glielo fai di mano poi gli fai un dici d'ora e come? adesso sta su che c'è che fare stanno fumando il sigaro e pensano a noi guardi io 25 anni ho avuto cioè veramente ho visto firmati i video però oggi è come se fosse andato veramente un figlio un padre un parente io non l'ho mai visto giocare però veramente è come se fosse morto un papà di famiglia Diego Armando Maradona non c'è più Diego Armando Maradona è passato alla legge si è perso una buona parte della storia di Napoli lui ci ha insegnato tanto ci ha insegnato il senso di appartenenza a questa città ci ha insegnato gioia dolore ci ha insegnato tutto e ci ha insegnato anche di combattere le istituzioni in campo non solo dietro alle tv lui ci ha insegnato tanto e noi gli siamo grati e siamo qua stasera a commemorarlo una lunghissima striscia di sciarpe di foto di cieli di magliette magliette anche dell'Argentina oltre che le fasce del Napoli il suo colore Diego Armando Maradona passa come abbiamo detto e anche sentito alla alla leggenda Diego Armando Maradona non c'è più ma continuerà a vivere e a esistere nel cuore dei napoletani noi chiudiamo questo lungo servizio per Napoli News Magazine Sinapsi News Buonasera Tattupi Buonasera 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 Buonasera